. Dopo il grande successo della prima edizione, verrà realizzato un sequel, questa sera, marted, 19 dicembre 2017 su Rai 1 andrà in onda l'epilogo della fiction di successo scomparsa. Per questo motivo, da alcuni giorni i telespettatori si sono posti questo interrogativo, ci sarà una seconda stagione, nel prosieguo dell'articolo scoprirete tutti i dettagli. La presidente di Rai Fiction ha dichiarato che non ci sarà scomparsa due a quanto pare, secondo i piani di Rai Fiction, il sequel di scomparsa non verrà realizzato. . La miniserie composta da sei puntate con protagonisti Giuseppe Zeno e Vanessa Incontrada si concluderà con il ritrovamento della giovane Camilla e l'arresto del colpevole del sequestro. . La notizia è stata data dalla stessa direttrice della casa di produzione Timi Andreatta, ancora prima della messa in onda della fiction, infatti, nel corso della conferenza stampa effettuata qualche settimana fa, ha annunciato che le vicende di Nora e del vicequestore Giovanni Memi non avranno un seguito. . Chi ha seguito attentamente scomparsa, si è accorto che è composta da una trama chiusa, quindi con un inizio e una fine, la storia è stata creata per essere conclusa in una sola stagione. . La trama della Fiction Rai è stata realizzata per concludersi col sesto episodio inizialmente nei vertici della Rai, che la casa di produzione, si immaginavano questo successo strepitoso. . 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